Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà ancora una zona di alta pressione ben salda su gran parte del nostro continente quindi le perturbazioni restano per il momento lontane e le temperature continueranno a raggiungere punte miti però vi anticipo domenica inizierà a farsi sentire aria un po' più frizzantina controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia, per il momento nulla di particolare da segnalare qualche nuvola si affaccia all'arco alpino e in effetti a fine giornata al nord cominceremo a vedere qualche nuvola in più ma nubi comunque di poco conto non porteranno precipitazioni significative da nessuna parte e quindi in definitiva ci attende un sabato bello però attenzione ancora una volta su tutte le regioni tirreniche cielo grigia inizia giornata per la presenza di molta umidità che genera nebbie, foschie e nuvole basse ripeto le zone costiere delle regioni tirreniche dalla Liguria fino alla Campania per il resto sole, temperature ancora molto miti perché nuovamente potremmo arrivare a toccare i 20 gradi a fine giornata inizia ad arrivare aria più frizzantina al nord per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo Grazie a tutti